Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Comunale di Favara, Luca Gargano, rilasciate lunedì sera attraverso la nostra emittente e rivolte al Sindaco Domenico Russello in relazione alla convocazione urgente del Consiglio Comunale per la partecipazione del Comune al Bando Regionale per l'inserimento di Favara tra le liste dei centri ad economia prettamente turistica e cittadarte, ha registrato diversi attestati di soddisfazione degli esponenti locali del PDL. Il Presidente del Consiglio, scrive in una nota il consigliere del PDL, Leonardo Pitruzzella, ha dimostrato di essere un uomo politico libero. Attaccando il Sindaco, suo compagno di partito continua a assancito il fallimento politico del Fli e dell'amministrazione comunale. La dichiarazione di Gargano, aggiunge Pitruzzella, dimostra come il Sindaco navighi a vista e come oramai non sia più seguito e collaborato dal suo stesso partito. Infine Pitruzzella invita Gargano ad aprire un serio confronto per costruire un'alternativa politica all'inconsistente amministrazione Russello. Anche il coordinatore locale di Giovani Italia, Andrea Giglia, plaude alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Gargano. Secondo Giglia, le parole di Gargano, da un lato sanciscono una profonda spaccatura all'interno del Fli e dall'altro, dice il coordinatore di Giovani Italia, consegnano un primo cittadino sempre più solo, incapace di amministrare Favara, incapace di chiudere la tristemente nota vicenda della quinta giunta. A queste note di soddisfazione, arrivateci in redazione nel pomeriggio di ieri, si aggiunge anche quella del dirigente nazionale di Generazione Futuro, circolo di Favara, Salvatore Forte. Il Presidente Luca Gargano ed i giovani di Generazione Futuro di Favara, dice Forte, rimangono voce critica di Futuro e Libertà, gruppo nato per ritrovare la rotta della politica intesa come servizio e che il PDL, o quel che oggi rimane del predellino, ha smarrito oramai da tempo. Forte ricorda che assieme al Presidente Gargano hanno stimolato per spirito di responsabilità amministrativa la nascita della giunta monocolore, nel cui ambito la presenza dell'avvocato Noto Millefiori voleva essere il segno più tangibile di questo proposito. Successivamente, poi dice ancora Forte, per oggettiva impossibilità di garantire l'espletamento delle importanti deleghe assegnategli, hanno ritenuto di rassegnare il suo mandato assessoriale. Il dirigente nazionale di Generazione Futuro, Forte, non autorizza nessuno di fronte a questa posizione critica assunta dal Presidente del Consiglio Gargano, dinanzi al perpetuarsi della situazione di stallo a Palazzo di Città, aggravata da episodi che nulla hanno a che vedere con l'accortezza amministrativa, a designare scenari che appartengono più alla fantapolitica, piuttosto che alla sempre più difficile realtà in cui si ritrova la nostra città. I giovani di questa città, conclude Salvatore Forte, hanno il dovere di guardare ai problemi, coniugando entusiasmo ed equilibrio nel rispetto delle diverse convinzioni e posizioni, evitando di tirare maldestramente per la giacca chi cerca di esercitare puntigliosamente il proprio mandato istituzionale, strumentalizzandone ad arte le osservazioni chiamate a fare per il rispetto dovuto alla cittadinanza. Ma su tutta la questione, e questo ce lo chiediamo noi, i due protagonisti, il sindaco Russello ed il presidente del Consiglio Gargano, che dicono?